Il diario Zari e Lily sono a scuola Lily, ho un problema. Non trovo il mio diario E allora? Io parlo di Michael nel mio diario Michael? Il ragazzo americano? Sì, devo trovare il mio diario Va bene Lily e Zari cercano il diario in un'aula Mi dispiace, non è qui È una giornata orribile Zari vede Michael, lui ha un diario rosa Oh no, è Michael! È al mio diario! Ciao, Zari! Questo è il tuo diario Vero? Eh, no Ma c'è il tuo nome? Va bene, sì È il mio diario, ma... Non ti preoccupare Non capisco la tua scrittura Ah, bene Zari, vuoi venire al cinema con me venerdì? Io? Io? Sì, sì Fantastico! A venerdì! Lily, è una giornata fantastica! Nome Nome Venerdì Diario Trovare Giornata Questa è la mia C'è la mia